Dirigenti della Regione Abruzzo uditi oggi a Villa Gioia in sede di Commissione Comunale sul tema dei Bolli Auto 2009-2010. 45.000 le posizioni da regolarizzare, ma al 40% è senza sanzioni. La conferma è arrivata in Commissione dopo l'interlocuzione della Regione con il Ministero. Presidente Vittorini, oggi in Commissione la questione dei Bolli Auto 2009. Qualche chiarimento è arrivato dai tecnici della Regione? Sì, ho ritenuto opportuno, anche in vista del Consiglio Comunale di domani, convocare i dirigenti, la parte apicale della Regione Abruzzo, per quanto concerne la questione che ben conosciamo dei Bolli Auto 2009-2010 del cratere sismico, per mettere tutti i commissari, tutti i consiglieri, le condizioni di avere formazioni ufficiali e peculiari su quello che è un tema che è a cuore di tutti i nostri concittadini e le nostre concittadine e che rientra in quel mandato che loro ci hanno assegnato. Che cosa è emerso in particolare dalla Commissione? Innanzitutto abbiamo avuto un chiarimento di natura quantitativa su quello che è l'importo anche in valore assoluto dei Bolli e quindi delle cartelle che sono state e che sono in corso di notifica verso i nostri concittadini, ma soprattutto c'è stata la conferma di un'apertura da parte della Regione Abruzzo con colloqui nei confronti del MEF e del Governo centrale, che poi poco fa è stato confermato sia dalla Premier Meloni che dal Presidente Marsilio, di una volontà di andare incontro ai concittadini, soprattutto in quanto concerne la parte sanzione interesse delle cartelle che sono arrivate. Grazie mille. Stefania Pezzopane oggi in Commissione per la questione Bolli Auto 2009, soddisfatta di quanto è emerso? Assolutamente no, apprezzo naturalmente lo sforzo del Presidente Vittorini, ma noi non avevamo l'interlocutore politico in questa Commissione. L'assessore non è venuto, non è venuto il Sindaco, per cui la Commissione è stata un nulla di fatto. L'interlocuzione è stata unicamente con due dirigenti regionali che hanno risposto ad alcune domande ma che non hanno risolto il problema, che è politico. La Regione ha avuto un comportamento verso 45.000 terremotati come se questi 45.000 terremotati fossero degli evasori fiscali. Non ha utilizzato la procedura di avviso, ci ha rinunciato con una delibera di giunta a tutte le procedure di comunicazione, quindi ha fatto l'azione con l'Agenzia delle Entrate con il prelievo diretto. E noi non possiamo accettare una cosa del genere perché gli aquilani non erano evasori e non sono evasori. Avrebbero sicuramente pagato il 40% se fossero stati messi nelle condizioni e vanno messi nelle condizioni di pagare il dovuto senza ulteriori spese aggiuntive. Grazie.